Che caspita è questa cosa? Ammirate! La nostra ultima creazione! Una raccolta delle più grandi menti di anfibia, preservate da ora e per l'eternità. Che stai facendo, Andreas? Fermati, scriteriato! Gli studi su Mossman hanno perfezionato la tecnologia medica, ma è stato solo conoscendo gli Shadowfish, che abbiamo imparato a sconfiggere la nostra estinzione, ed è così che il nucleo è nato. No! Lasciami andare! Rayma! Il mio signore desidera un ospite, e voleva il migliore, il più intelligente, l'unico che potesse battermi a Fleetwood. Sono onesto, Marcy, tu mi piaci. Mi piaci da sempre. Ho supplicato il nucleo di considerare un altro ospite, ma hai me... Cosa? Scusa! E' arrivato il momento per il nucleo di condurci al nostro destino, ma quale destino vi chiederete? Beh, penso di dover lasciar parlare lui stesso. E c'è la tutti!